Ciao, non so se ti ne hai mai reso conto, ma ci sono molte belle ragazze che vanno nei locali notturni e se sanno quello che fanno, se sono un po' sgammate, praticamente bevono a scrocco alla faccia tua. Quindi, ti è mai capitato che solo dopo pochi minuti che ti è riconosciuto con una ragazza in locale o magari anche subito lei ti avesse chiesto di offrirle da bere? Se questo ti è capitato, oggi vediamo come rispondere. Io sono Giorgio Di Lorenzo e questo è seduzionattrazione.com Allora, quello che tu vuoi capire è che ci sono certe situazioni in cui è legittimo, visto che si crea una bella atmosfera con la ragazza, prenderla, portarla al bar e offrirle da bere. Ma nel momento in cui il bere è una conseguenza, semplicemente per isolarla, e non una scusa per pagare del suo tempo, ok? Alcune ragazze potrebbero quindi provare a scorcarti da bere. Qualcuno ti direbbe che un test lo è veramente? Molto probabilmente no, molto probabilmente ti stanno solo provando a scorcare da bere. Ma l'unica cosa che tu puoi fare è trattarlo come se fosse un test, se ti interessa la ragazza almeno, e vedere se lei finalmente capisce che non sei un po' l'ora spennare e altrimenti passare avanti. Quindi proviamo un attimo a vedere come questo funzionerebbe nel mondo reale. Ma partiamo prima da quello che tu non devi fare, cioè quello che molto spesso di sbagliato accade nel mondo reale. Senti, ma mi ha piaciuto bere la spede? Sì, certo. Cosa ti piace la bere? In una situazione di questo tipo, l'unica cosa che può realmente accadere è che tu prendi, metti in mano la carta, cacci in eccesso 20 euro e lei ha scroccato da bere a un gonzo e poi se ne va. Molto probabilmente alla caccia del prossimo. O di sicuro non è con te che succede qualcosa di romantico e sessuale, chiamalo come cazzo ti pare quella sera. Quello che invece adesso facciamo è farti vedere come potenzialmente puoi rispondere alla ragazza. Senti, sti di mi appiresti da bere? Sì, perché no? Il primo giro è tuo. No, dai, scemo. Ovvio, un drink. Ok, dai, vuoi anche una frattata di limone nell'acqua del rubinetto? Quello che succederà a questo punto è che tu dovresti aver messo sufficientemente in chiaro quella ragazza che non sei un po' l'ora a spennare. Quindi a questo punto, dopo quello che hai fatto, lei comincia a trattarti con rispetto oppure ti vuole solo scroccare da bere. Questa è la verità. Quindi quello che vuoi tenere in considerazione è questo. O lei accetta il fatto che tu non sei un perdente, oppure se il suo unico interesse era quello di spennarti, non c'è assolutamente nulla che tu possa fare. Ed è indifferente il fatto che la ragazza esteticamente ti piaccia o meno. Quindi a questo punto facciamo finta che le cose siano andate come sono andate finora in quella che è la simulazione di quella che è la nostra interazione. A questo punto vuoi subito rilanciare. Per quale motivo? Perché hai creato un'atmosfera che da un certo qual punto è abbastanza pesante, ma devi creare frizione con la ragazza dal modo in cui lei si sta ponendo e molto probabilmente non saprà cosa dirti a fronte di quello che hai appena detto. E quindi a questo punto vuoi un po' scherzare e stemperare l'atmosfera in maniera giocosa, ma al tempo stesso farle capire che non sei lì a farti prendere per il culo. Senti scherzi a parte, penso che abbiamo chiarito che non faccio parte della categoria poli a spennare. Se stai cercando un polo a spennare, c'è quel ragazzo lì che penso che sia perfetto per te. Altrimenti puoi semplicemente iniziare a dirmi qualcosa di interessante per te. A questo punto, se la ragazza inizia a cambiare atteggiamento, a qualificarsi, scusandosi quello che è, tu puoi potenzialmente avviare una conversazione. Viceversa, non perdere il tuo tempo, non accettare comportamenti di serie B da parte di una donna, non importa quanto lei bella sia, anche perché se lo fai, in ogni caso, stai solo buttando soldi e non ti stai avvicinando di un millimetro a... tu sai cosa. In buona sostanza, che ti piaccia o meno, e che ti piaccia la ragazza o meno, non puoi arrivare al sesso con una donna che vuole solo scroccarti dei soldi, ha solo interesse per il tuo portafogli. Beh, a meno che non sia una prostituta. Stop, non scappare subito. Primo, ricordati di iscriverti al canale. Secondo, vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? Infatti il primo passo per imparare a ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo. In questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare a usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo. Quindi clicca il link qui a destra per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.